L'Auditel non va in ferie e Teleuniverso men che meno. Le rilevazioni dell'Istituto Superpartes che si occupa di conteggiare gli ascoltatori medi sulle tv italiane hanno sancito che per il mese di agosto Teleuniverso è stata l'emittente regionale più seguita nel Lazio. Secondo Auditel infatti sono stati 84.710 in media i telespettatori che hanno scelto di sintonizzarsi sul canale 16 del digitale terrestre. Dati che premiano in maniera netta la nostra emittente soprattutto in un mese come quello d'agosto che è il mese delle vacanze in cui tutte le trasmissioni d'approfondimento sono ferme. Analizzando i dati in maniera più attenta è possibile capire dove si trovi il gradimento maggiore da parte del pubblico. Torna a crescere l'informazione mattutina con il blocco formato da Tg Edicole a prima pagina che stravince la sfida della fascia oraria tra le 7 e le 9 rispetto a tutte le altre emittenti. Buono il risultato del Tg Pomeridiano ed anche la fascia che fa da traino al telegiornale delle 20 e 25 raggiunge un ottimo dato di crescita. Dalla prima serata poi fino alle 2 della notte è un crescendo con le tre edizioni del telegiornale che la fanno da padrone intervallate dalla normale programmazione che per questo mese come detto non ha previsto trasmissioni. Con il prosieguo del mese di settembre e l'avvio al regime della nuova programmazione siamo certi che questi dati possano crescere. L'approfondimento politico, quello sportivo, le trasmissioni per ragazzi, l'intrattenimento musicale, questo e tanto altro ancora per la nuova stagione in attesa dei risultati sempre migliori. Per adesso ci guardiamo indietro al caldo mese di agosto e al primato e vi diciamo grazie.